Salve a tutti ragazzi E bentornati su V2 su server 2 Io mi muovo come se avessi qualcosa Di grosso e pesante davanti Allora io sono montagna Anzi montagne E stiamo per fare un disinnesco bomba Dobbiamo capire dove sia la bomba E abbiamo 15 minuti Ovviamente i realistici sappiamo che si fanno in 4 persone Minimo ma noi siamo coglioni Perché noi siamo bravi Siamo bravi ci sappiamo fare Allora io salgo qua e butto Io vado giù Con il robottino Parto dal seminterrato Quindi tu vai più in alto che tu Io vado sopra Mamma mia Se entrassimo dentro a questa stanza Sarebbe un disastro Sarebbe stato bello entrare e trovare già la bomba Invece sto cazzo avvocato Sto cazzo Abbiamo individuato una bomba Bravo Attentate che troviamo pure l'altra Ok una bomba ce l'ho Mamma mia se è difficile questa Allora già il disinnesco bomba è difficile per i fatti suoi Poi su sta mappa aiutami a dire Poi su sta mappa così organizzata Madonna quanti respiratori ci stanno Eh ne ho visti pure io Ah cazzo mi hanno fatto secco A me ancora no Abbiamo già tutte e due le bombe Eh? A e B Ne abbiamo tutte e due Ok allora l'altra quando le trovo Va bene L'hai trovata tu Ci sei passato davanti Perché sono stato solo nel seminterrato Perfetto Allora Aspetta un attimo Capiamo come aggirarci Io partirei da giù E poi salirei su Dici? Eh sì Sai la strada per giù? Sì Ok Dove sei? Sono otto male Sì si è tolto otto Va bene Allora Come al solito tu Devi rimanere in qualche modo dietro di me Se no non ha senso Montagna Lasciali perdere Lasciali perdere Allora potremmo sfondare questa parete E irrompere da qui Vai Aspetta non si può rompere Ah non si rompe Va bene Allora dobbiamo entrare da qua Perché non si può rompere? Allora entra da qua però Ci sei? Sì Vai Non mi mette a me Oh merda Sono davanti a te Non ti preoccupare Non ti posso succedere niente Sì 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 Mi sono spostato Ok Porca troia Rifacciamola Ragazzi si rifà Si rifà perché Guarda che brutta la texture del Madonna si è messo di tre quarti il figlio di puttana Non posso È veramente difficile È tosta Tosta Questa è veramente forte Va bene la rifacciamo Non lo so Quelle montagne Secondo me è poco agile Per questa missione così intrigata È poco agile Però se io mi pianto con lo scudo Tu lo fai secchi gli altri Sempre se non maccegano Io non capisco dove cazzo sto Eh però intanto Se stai dietro al mio scudo Vai Allora Uno vale l'altro Allora Quell'entrata lì Io spero che sia rimasto tutto com'era No cambia tutte le cose Arco giuda Perché così era molto Molto buona Perché da dietro non ci prendeva nessuno Dobbiamo ritrovare le bombe Di nuovo Non sarà semplice Allora partiamo subito con il robottino Io vado giù come prima Tu vai su La missione è trovare Di sinnescare una bomba Siamo in un posto pure Però siamo Siamo spawnati in pulonia Ok Ok Con giù è tutto diverso L'hanno riempito di filo spinato Possiamo partire da sopra 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 Siamo in un momento Ok Quindi partiamo da su E poi arriviamo al seminterrato Sì 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 assolutamente Rampini Rampini Sei dietro di me? Sì Ti seguo Puoi piazzare tipo una Una carica da ste parti Spera che controllo Ma non credo Non distruttibile Niente? Eh no Ma Però un buco Dai c'è adesso un buco Per entrare qua Tipo Da qui Dobbiamo sfondare una finestra Eh noi dobbiamo scendere Di un piano Ok Da questo lato dove mi sono calato Una finestra c'è E siamo proprio davanti alla bomba Eh Ma io però da qua sono molto scoperto Cazzo vi sta sparando Sei morto No io no Ok Quel bastardo Morto? Sì era Il coso Eh il respiratore l'ho visto Micca troia Allora Ci sei? Sì aspetta Merda Sono avanti a una porta Lo so lo so aspetta Ok l'ho fatto secco Fatta saltare io Stanno Oh oh li sento Stanno arrivando tutti quanti qua Metti dietro di me E io c'ho paura che arrivano da giù Allora entriamo dai Vai Controlliamo prima a sinistra Niente Occhio le bombe ancora esplodono Oh merda Indietro 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 Sempre dietro di me Oh oh c'è gente qua Eh lo so Gli spari tu Se devo stare dietro di te come cazzo faccio? Eh ti affacci dietro da una parte Occhio occhio Respiratore Grande Orca troia Indietreggia Flash 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 Sta pieno Quella zona là È pieno di merda Allora aspetta Metti dietro all'angolo Per favore Attento Bomba scappa Mi sono riuscito fuori eh Madonna la gente Non è Esci 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 Tu non hai idea di che cosa mi hanno buttato Guarda Non hai idea Bella Se sto davanti io Non passa niente Capito? Possono solo prendermi da dietro Che detta così Da dietro Io c'ho paura di quella cazzo di porta aperta Qua giù alle scale Ce ne stavano almeno tre eh Là? Sì qua sotto qua davanti Ecco un altro No Ma si è cato Che cazzo va Mi ha sparato ai piedi Occhio perché non sei invulnerabile completamente eh Eh ma se sto a terra si crede Raggiungete le piazzate L'isinnescatore Eh in gula a mamma Mi lo digli a questa voce di merda Allora Andriamo? Ah eh Guarda la gente qua Oh sta gente Oh merda Scappa scappa Porca troia ragazzi Non si entra Non si entra Sono serragliati in una maniera Allora Ti vuoi buttare una bomba o qualcosa Aspetta c'ho la granata a stordente E ti posso Aspetta Guarda qui La faccio rimbalzare di qua e poi entriamo Vai No niente niente Non c'è niente da fare Senti posso proporre? Occhio che è arrivata a stordente Porca Entriamo nella stanza a fianco Questa qui E c'è le bombe C'è le bombe Lo so ma le sto rompendo Però le sento ancora cazzo Sono a secco Occhio Io credo che siano finiti là dentro Ne erano 10 milioni Ce n'è uno sempre qui Aspetta Facciamo una cosa Guarda Ok l'ho fatto L'ho fatto Vieni vieni Ok aspetta che qua devo Piazzalo Fammi rompere sto cosa Perché se ce ne dobbiamo andare Ce ne dobbiamo poter andare Piazzalo proprio qua davanti Proprio davanti alla porta Qua Non troppo In modo che non posso Qua 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 Questo io Qua Sì ma non me lo fa piazzare Ah troppo lontano Ah ce l'ho io forse Dammi un secondo Fammi prendere i rifornimenti Aspetta eh Ah e dimmelo Vai Te lo sto dicendo Ok vai Oh merda Che cazzo è successo Ho sparato una grata Stordente davanti agli occhi Allora questi per prima cosa Ci sfonderanno la parete a sinistra Cazzo Oddio maledetta allergia Io sto qui davanti eh Bella Bella Vai papere Vai vai Spara quello Dovevo ricaricare Ok Io devo ricaricare Senza non posso Fai niente Porco giuda No Disastro ragazzi È un casino Dio mio Mi possono sparare Su un pezzettino di testa Praticamente Dai eh Dagli che ce la fai Mamma mia Mamma mia Mamma mia Quanto è difficile Questo Questo caspio qua No Vabbè Però una bomba L'abbiamo disinescata Vaffanculo Guarda è tosto Tostissimo ragazzi Guarda è condotto che Che io stavo davanti a te Sono riusciti a passare Ma perché In realtà Il problema è che tu Fornisci una gran protezione Ma la metà dei tiri Che volevo fare Non l'ho potuti fare E quindi i nemici Restano vivi Perché tu hai solo Quella cazzo di pistolino Va bene ragazzi Eh Speriamo che vi sia piaciuto Sappiamo che Questo livello realistico È impossibile da superare in due Ma noi ci rifaremo Ci riusciremo così Come abbiamo finito Take down Ciao